Prima era uno spazio mensa, poi è divenuto un'aula, ma siccome quell'aula non era a norma, in quanto il locale era nato per essere un refettorio, i bambini sono stati dirottati in 4 e 4 otto in un salone. Ma pure questo non è un'aula. Il Guazzabuglio, nell'asilo Bruno Munari di Sondrio, dove i genitori dei piccoli della classe blu non hanno preso tanto bene l'ennesimo cambio. Questa mattina ci siamo ritrovati con una sorpresa spiacevole, soprattutto i nostri bambini, in quanto la nostra aula, l'aula dei blu, non è più un'aula. In questo momento, da oggi, è stato ripristinato il servizio mensa e i nostri bimbi purtroppo si trovano in quello che era il salone, lo spazio adibito a salone, che è stato in qualche modo sistemato come se fosse un'aula. Io ho due bimbi che hanno già frequentato questa scuola negli anni passati e ho sempre consigliato questo asilo perché ci siamo sempre trovati molto bene. Purtroppo ovviamente la pandemia Covid ha creato grossi problemi a tutte le scuole, anche alla nostra, pertanto i bambini si sono ritrovati, chiaramente per le nuove disposizioni, a dover mangiare in classe. Questo ha portato a liberare l'aula che prima era l'aula rifettorio, che trovandosi vuota è stata poi occupata dai ragazzi della scuola di Triangia, quando la scuola di Triangia, per decisione comunale, ha chiuso. Da un anno e mezzo i nostri bambini sono stati messi in questa classe, che è diventata a tutti gli effetti la loro aula. Ieri abbiamo scoperto che però quest'aula non era a norma e la dirigente ha deciso di ripristinarla come aula mensa, spostando, o meglio, buttando i nostri bambini nel salone, facendo diventare il salone un'aula provvisoria, che però a nostro avviso non è a norma nemmeno quella. Il fatto è che se questa struttura nasce, da quanto ho potuto capire, per ospitare un centinaio di bambini, è pur vero che i piccoli che frequentano l'asilo sono circa 110 e quindi già in sovrannumero. E altri ancora faranno il loro ingresso alla Bruno Munari, con le nuove iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Insomma, la coperta è chiaramente già troppo corta. Intanto è stato fissato dalla dirigente scolastica per sabato prossimo un incontro con le mamme di papà della classe blu. Ormai sono due anni che facciamo domande, ci informiamo un po' per la gestione particolare che c'è stata. e siamo sempre state spostate prima nella mensa, adesso in salone. Vorremmo capire le possibilità che dà questo asilo per poter continuare a frequentarlo nella maniera corretta. La cosa che ci ha rispettito di più sicuramente sono state le modalità e le tempistiche nelle quali la dirigente e la scuola hanno comunicato con i genitori. È arrivato un messaggio tramite WhatsApp dalla nostra rappresentante che ringraziamo ma non è un canale ufficiale, ieri sera. E quindi noi da questa mattina ci siamo trovati senza aula, così di punto in bianco. Oltretutto questa decisione è stata presa alla chiusura di possibili eventuali iscrizioni ad altre scuole alle quali chiaramente noi genitori abbiamo pensato perché ovviamente ormai le iscrizioni nelle altre scuole sono chiaramente piene ormai.